Il mondo di sogno e al tempo stesso dei gioielli che ci fanno sognare perché ci fanno sentire le principesse, in fondo le attrici di oggi forse sono le principesse di tanto tempo fa. Ci ha inspirato a creare un bijou, un'hommage a Marilyn, e Diamonds are Girls Best Friend, quindi chiaramente è stato tutto in diamant, quindi è così che siamo arrivati a questa storia che è un po' come un tapis di cuore. Un disegno ti dà una traccia, ma rimane comunque bidimensionale, ecco la grande difficoltà è il passaggio dalla bidimensionalità della carta alla tridimensionalità dell'oggetto vero e proprio, e tante cose possono accadere in questo passaggio, è un ponte lungo e difficile da qualcuno. Questo business, per me, è un affare amico, e questo affare amico continua su un'attività di questo. Io e i miei fratelli condividiamo gli stessi valori, la stessa voglia di far bene le cose, di crescere in un modo etico, facendo le cose perché veramente durano nel tempo come devono essere appunti gioielli, mi ha dato una grande forza. E io ero solo, ho detto, 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 e ho detto, ho detto, ho detto, perché sono grandi e erotica e erotica e erotica e aveva nomi che non potrebbero pronunciare. ... ... ... ... ... ... ... and it was going to be colourful, and it wasn't going to be like anybody else's. And I think we've sort of stayed true to that. Jewellery is not only just a precious artefact, but it is a work of art worthy of being in a museum. And I think that's what has impressed the audience in every venue. 5.4. At 5.400.000 then, I'm sending it now to Daphne, a million and four hundred thousand dollars. And your number, Daphne, thank you. Thank you. Thank you very much. This is really a piece of my favorite from what I've done in life. At a certain point, I thought that a pregnant woman is one of the most beautiful things in the world. Because it's life, it's the future of humanity. Magistral, imperial, etonant, d'intemporalité and at the same time, chargé de son histoire, chargé de toute son expérience de vie. Il travail que nécessite une collection comme celle-ci, c'est des heures et des heures et des heures de minutie, de patience. La grande spence. Le feeling This year is only a ce qu'oncium a duyε 무엇. A meaning If we comentamos, it's all a seeming to be able to grow. It's a dream that weного fug�, in our many others. forse la più grande soddisfazione quando vedo un gioiello molto creativo che poi viene subito acquistato viene immediatamente acquistato amato da una donna bellissima e vederlo indossare per me una grande soddisfazione